Una tranquilla passeggiata in un'area verde vicino al fiume Metauro, nel comune di Sant'Angelo Invado, si è trasformata in un attimo in una brutta avventura per una cagnolina e la sua padrona, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Nei giorni scorsi nel parco Pietro Viscera, una signora, ha notato che l'animale, una meticcia di piccola taglia, aveva in bocca qualcosa di anomalo, recuperato in mezzo all'erba. Per fortuna il boccone è stato subito lasciato e quindi non ingerito. Ma a quel punto la donna ha fatto una scoperta inquietante. Si trattava di un pezzo di carne bianca, probabilmente pollo, ricoperta da tanti granuli di colore blu, forse un veleno antilumaca. Subito la corsa a cercare aiuto da un vicino di casa che ha provveduto a far rigurgitare il cane, il quale aveva già ingerito parte della sostanza perché il contenuto gastrico era proprio di colore blu. Grazie al pronto intervento la cagnolina è sopravvissuta. Sull'episodio però sono partite le indagini dei carabinieri forestali di Mercatello sul Metauro e di Urbino. I militari hanno inoltrato il materiale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, la struttura competente per l'analisi di esche avvelenate. Inoltre per la bonifica dell'area è intervenuto il nucleo cinofili antiveleno del reparto dei Monti Sibillini. Purtroppo non è il primo caso di rinvenimento di Bocconi in quell'area pubblica. Esattamente un anno fa si verificò la morte di un cane per ingestione di carne con metaldeide, cioè un lumachicida, ritrovata nel parco occultata tra l'erba alta. All'origine di questi gesti ci potrebbero essere dei contrasti tra chi frequenta l'area e i proprietari dei cani. Ora proseguono le indagini dei carabinieri forestali che continueranno a monitorare la zona per risalire al responsabile, che rischia sanzioni severe. Infatti si tratta di un reatto perseguito penalmente e nel codice penale sono previste anche pesanti pene qualora dal fatto dovesse derivare l'avvelenamento di un animale, sia esso domestico o selvatico. Nel caso di morte poi si rischia addirittura da 3 a 18 mesi di reclusione.